La nostra squadra è nata nell'ambito del progetto universitario TAC che si occupa di sviluppare nuove aziende nel settore automotive e in particolare il nostro progetto imprenditoriale è quello di creare un kit di conversione per veicoli diesel in modo tale che possano utilizzare il biodiesel che è un carburante di origine totalmente naturale a basse emissioni e quindi promuove un'idea di economia circolare soprattutto perché è prodotto anche localmente dalle piccole aziende. La nostra idea ha intenzione di svilupparsi e trovare validità in particolare in un primo momento nel settore dei trasporti pubblici in modo tale da rinnovare e sviluppare le flotte di autobus locali e quindi promuovendo anche una mobilità locale sostenibile.